L'HDMI è lo standard per il salotto. Ormai ogni TV, console da gioco, riproduttore multimediale, è basato sulla connessione HDMI. Alcune porte HDMI possono essere compatibili anche con lo standard ARC o la sua versione evoluta EARC. E probabilmente questo standard, secondo me, è l'invenzione migliore dell'ultimo decennio o anche di più, perché il suo scopo è uno, facilitarvi la vita. Nei prossimi minuti vedremo cosa offre, come usarlo e cosa, come dire, cercare dei dispositivi tecnologici per abilitarlo. La sigla ARC significa letteralmente Audio Return Channel. È stato introdotto a partire dalla versione HDMI 1.4 ed essenzialmente quello che permette di fare è gestire l'audio in entrambe le direzioni, cioè come input ma anche come output, dal singolo, dallo stesso cavo HDMI con le due connessioni. Facciamo un esempio molto classico per capire il vantaggio. Immaginate di avere una configurazione con, da una parte, una console da gioco, dall'altra la TV e in mezzo un amplificatore, un sinto ampli, a cui è connesso il nostro impianto audio, il nostro autoparlante. Quando voi utilizzate la console da gioco, l'amplificatore si occuperà di mandare l'audio portato dal cavo HDMI all'impianto audio, agli autoparlanti e poi mandare il segnale video alla TV. Tuttavia, con questa semplice configurazione, se avete qualcosa collegato alla TV o anche, come dire, la TV stessa che riceve la TV classica, cioè digitale terrestre, o anche un'applicazione della Smart TV come Netflix, Prime Video, insomma, o addirittura, ne so, una chiavettina in più collegata alla TV stessa, ecco, non potete, non potrete riprodurre l'audio dalla vostra TV sul vostro impianto di autoparlante, perché quel singolo cavo che va dall'amplificatore alla TV porta tendenzialmente unicamente il segnale video. L'unico modo per farlo è collegare un altro cavo che va da un'uscita audio della TV, solitamente un audio ottico digitale, a un'entrata audio del sinto ampli, dove chiaramente sono collegati gli autoparlanti, quindi necessitate di un altro cavo che dalla TV torna all'amplificatore. Se invece quel cavo che va dal vostro amplificatore alla TV, anziché essere un HDMI normale, è un HDMI ARC, ecco, non avete bisogno di aggiungere a quest'altro cavo aggiuntivo, perché lo stesso cavo HDMI che va appunto dal sinto ampio, dall'ampli, insomma, alla TV per portare il segnale video, di tutto quello che avete collegato a questo simple ampli, può essere usato anche per portare indietro l'audio verso il vostro amplificatore e poi ai vostri autoparlanti. Nell'esempio che vi ho appena fatto è abbastanza semplice chiaramente capire il vantaggio di ARC, ma allo stesso tempo si può dedurre che il reale vantaggio del, chiamiamolo, audio di ritorno, o se volessimo, come dire, tradurre in italiano la sigla ARC, è limitata al tipo di installazione. Quindi, ora, facciamo un po' di chiarezza, perché in effetti non sempre è necessario ARC a lato pratico, anche se vedremo fra poco, insomma, che non sempre è necessario, ma è sempre desiderabile. Se voi avete una configurazione super basilare, ad esempio una TV, la vostra TV, una soundbar e una console da gioco, la vostra Xbox, la vostra Playstation è collegata alla TV tramite un cavo HDMI e la TV è collegata alla soundbar tramite un cavo ottico digitale. Quindi, come dire, l'audio passa sempre unidirezionalmente alla soundbar che sia la fonte dell'Xbox o che sia qualche applicazione della Smart TV. Ecco che in casi come questo non è che la funzione di bidirezionalità dell'audio di ARC fa la differenza, o quantomeno non la fa in termini di usare in qualche modo questa caratteristica di bidirezionalità. Ma avere ARC fa differenza per un'altra funzione che rende, come dire, l'uso delle periferiche più comodo e più semplice. C'è una funzione che è praticamente disponibile ogni qualvolta abbiato una connettività ARC che si chiama CEC, CEC, sigla che sta per Consumer Electronic Control. Si tratta di una connessione a banda molto limitata, in realtà il cui unico scopo è la possibilità di inviare dei segnali di input-output e permettere alle elettroniche che ne sono provviste, collegate tra di loro, di parlare tra di loro. Torniamo all'esempio classico. Se voi siete nella situazione descritta poco fa, dove avete una TV, una console da gioco, connessa alla TV con un cavo HDMI e una soundbar connessa alla TV tramite una connessione ottica o un altro tipo di connessione, dovrete solitamente prendere un telecomando e accendere la TV, un altro telecomando e accendere la soundbar e col joypad accendete la console. Se siete fortunati, quindi avete una TV moderna, come dire, la TV si sintonizza direttamente sull'entrata giusta, l'entrata HDMI magari della console, perché appunto rileva un cambio di impedenza su quella connessione, altrimenti dovrete anche col telecomando della TV andare a selezionare l'uscita HDMI corretta. La situazione di certo non migliora se aggiungete in questo setup un sinto amplificatore non ARC CEC di mezzo, perché oltre tutto quello che vi ho già detto dovete anche prendere il telecomando dell'amplio e dei sinto ampli, accenderlo, selezionare l'uscita corretta e via discorrendo. Quindi un sacco di input, un sacco di telecomandi. CEC vi evita tutto questo, perché se avete dispositivi compatibili connessi tra di loro, ad esempio all'accensione della console con il joypad, la console si occuperà di dire alla TV di accendersi e la TV dirà a sua volta alla soundbar di accendersi, o addirittura la console dirà al sinto amplificatore di accendersi e di selezionare l'uscita a cui è collegata l'Xbox, il sinto ampli dirà alla TV di accendersi e di impostare l'uscita corretta, nonché di accendere anche la soundbar se è collegata e se necessario. Se siete in questa situazione e magari accendete, che ne so, con tutto acceso, ecco, con la console accesa, accendete il decoder sky, sempre connesso in questo sistema, addirittura il decoder sky dirà al sinto ampli di cambiare l'uscita e di spegnere la console. E se a un certo punto spegnete la TV perché dovete andarvene, in automatico solo quell'input di spegnimento di un componente della TV dirà a tutto il resto della catena di spegnersi. Vi assicuro che tutto ciò è super, super comodo perché non solo non dovrete mettervi ad accendere singolarmente gli X dispositivi per sintonizzarli sulle uscite corrette, ma ad esempio potrete anche utilizzare un solo telecomando, ad esempio quello della TV, per controllare il volume, il volume del sinto ampli, il volume della soundbar. Quindi di fatto questa funzione elimina i telecomandi, ve ne lascia praticamente uno, e permette all'elettronica di palare tra loro in maniera totalmente autonoma. Nota di merito per completezza, in situazioni dove non c'è ARC CEC è possibile eliminare le telecomande, ad esempio quello della soundbar, in maniera tale che possiate controllare il volume della soundbar con il telecomando della TV, ma ciò viene normalmente fatto tramite l'utilizzo di sensori infrarossi e copia delle frequenze. Quindi, come dire, è una soluzione ma non è quella ottimale. Specificata la funzione di ARC, di CEC, la differenza tra ARC ed EARC è principalmente nella larghezza di banda della comunicazione audio. Quella E di EARC significa enhanced, cioè migliorato. Laddove ARC è in grado di gestire un audio in termini di qualità e codifica pari, diciamo l'uscita digitale ottica, anche se il segnale dell'Accademia è un po' migliore, ecco non entriamo nel dettaglio, e ARC è in grado di portare una quantità di dati molto superiore e quindi abilita ad esempio l'audio multicanale Atmos, che è impossibile da gestire su un cavo ottico o su una connessione ARC basilare. Se quindi volete acquistare ad esempio una soundbar compatibile Atmos e collegarla alla TV, semplicemente per migliorare l'audio della TV, ecco che le ARC diventa essenziale. Prima abbiamo detto che in situazioni così semplici l'ottico è sufficiente, certo, ma se volete un audio in alta definizione, multicanali come la codifica Atmos, allora non è più sufficiente e ARC è l'unica soluzione. L'uso della connettività ARC non è niente di più difficile di connettere un cavo HDMI alla porta giusta, ecco non serve un cavo speciale, semplicemente dovete guardare dietro alla TV, alla soundbar o al sinplificatore qual è la porta identificata come ARC, solitamente è la prima HDMI, solitamente vengono messe più porte ma solo una è compatibile ARC e ARC. CEC invece solitamente deve essere abilitato e semplicemente si va nel menu, opzioni della TV, della console o del riproduttore multimediale che sia, si trova la voce, si mette suone, si abilita, ecco alcune elettroniche moderne rilevano in automatico l'uso della porta ARC e abilitano tutto, altre invece necessitano di questa semplicissima azione manuale. Nulla di più complicato come dire della semplice attivazione di un'opzione. Realisticamente vi direi no, nel senso che anche se vi trovate nella situazione semplice di avere una soundbar connessa alla TV e nient'altro, usare la connettività ARC che porta un segnale qualitativamente migliore e le funzioni CEC, secondo me è un'opzione sensata, per questo dicevo che è sempre desiderabile. Tuttavia esistono ancora oggi situazioni che solitamente si ritrovano con prodotti di fascia entry level del mercato dove questa porta che è di Mayark non è proprio prevista. In ogni caso, se avete già uno o più dispositivi connessi alla TV, come detto, optare per una connessione ARC o meglio ancora ERC, abilitando il controllo automatico dei dispositivi, è super suggerito. Amici, vi ringrazio per avermi seguito in questo video, vi raccomando, è importante per YouTube iscriversi al canale, mettere un mi piace, se volete commentate anche qui sotto, grazie per avermi seguito e noi ci vediamo in un altro video. Ciao! Ciao!